Sarebbe a un passo dalla sconfitta Al-Shabaab la milizia islamica somala legata ad Al-Qaeda, indebolita dalle lotte intestine e dalle defezioni, ultima quella di centinaia di guerriglieri che hanno gettato le armi e si sono consegnati a Mogadiscio. Lo afferma la missione dell'Unione africana, lo pensano anche le autorità che approfittano del momento per tendere una mano ai miliziani. Se si arrendono, quando si arrenderanno tutti, non ci limiteremo a mandarli per le strade, ha dichiarato il ministro dell'Interno. Li divideremo in piccoli gruppi. Se tornano volontariamente andranno a lavorare nelle fabbriche e ci prenderemo cura di loro. Cercheremo di formarli e di proteggerli. Se invece restano combattenti si passa al Dipartimento di Giustizia e vanno in carcere. Al-Shabaab ha promesso di uccidere tutti i deputati somali. Il primo della lista ha già perso la vita. Ma intanto in casa ha anche l'abbandono dell'alleato Hezbul dell'Islam, guidato da Assam Daira Wey, che lascia per divergenze ideologiche. Il gruppo ribelle era tra l'altro contrario alla fusione di Al-Shabaab con Al-Qaeda lo scorso anno.